Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max e parliamo di questa news che arriva così all'improvviso ma che riguarda una delle cantanti italiane più amate dal pubblico. Se è così non battete un colpo ma scrivete un bel commento se siete dalla parte di Alessandra Moluso perché parliamo proprio di lei e i fan non stanno nella pelle proprio per questa ragione qua cioè non per lei stessa ma nel senso per la notizia. L'artista di Galatina che ha mosso i primi passi ad amici torna a far parlare di sé dopo gli spifferi nei mesi scorsi che riguardavano una sua presunta però relazione con il collega Aiello. Aiello stesso che in un'intervista disse Ale è una matta scatenata ma ci vogliamo tanto bene. Questo disse in una intervista nell'anno 2020 non tantissimi anni fa a Radio Z e i due più volte sono stati avvistati insieme e sui social non si parlava d'altro all'epoca. Tuttavia è stata la stessa Alessandra Amoroso a smentire il flirt con Antonio Aiello. La cantante si servì dei social e in modo ironico escrisse su Twitter e dopo l'autografo sul cuscino negato anche il fidanzamento. Aiello ma tu ne sapevi qualcosa? Insomma un'amicizia e nulla più e nelle ultime ore il mondo del gossip è tornato a vibrare per Alessandra Amoroso. Tutto nasce da una story pubblicata poco fa sul profilo Instagram dell'artista in cui si legge, il momento giusto è all'improvviso. Inoltre la frase è corredata dal disegno di un cuore e ha fatto nascere la curiosità nei fan che sognano una nuova storia d'amore per Alessandra. L'esperta di gossip Deyanira Marzano ha pubblicato nelle Instagram Stories lo screenshot di una conversazione avuta con una sua follower. Il testimone sostiene che la cantante abbia ritrovato l'amore con un ragazzo che si chiama Valerio P. Allo stato attuale non sono molte le non sono molte le informazioni note sul conto di Valerio P., presunto nuovo compagno della cantante. Al momento, come scoperto da TAG24, si sa che si tratterebbe di un tecnico del suono e che è originario di Olevano sul Tusciano, Salerno. Il ragazzo avrebbe 28 anni e come si apprende dal suo profilo Instagram ha lavorato a ben 14 concerti di artisti noti come per esempio Elite FIBA. Inoltre, se si scorre tra i post della sua sua bacheca di Instagram, se ne rintraccia uno in cui ringrazia proprio Alessandra Amoroso per aver ricordato il lavoro svolto da artisti e addetti ai lavori durante la pandemia. Infatti, la cantante aveva organizzato un monologo con l'attrice Matilde Jolie, portato sul palco dell'Ariston nel 2021, anno nel quale il mondo dello spettacolo cercava di rialzarsi in seguito alla pandemia del 2020. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.